Divisi alle elezioni, uniti a favore dei più giovani. Lo spirito di quanto emerso a Gurone, nel Salone dell'Oratorio, durante l'ultimo confronto pubblico tra candidati sindaco di Malnate, è stato indubbiamente costruttivo. L'iniziativa, organizzata dalla parrocchia e moderata dal giornalista Marco Giovannelli, ha cercato di dare voce e risposte alle nuove generazioni, ma anche a diversi adulti che hanno condiviso serate e argomenti. In scena il poker di aspiranti primi cittadini, Irene Bellifemine, Nadia Cannito, Sandro Damiani e Paola Cassina. Non resta che aggiungere il collaudato, ma Calzante vinca il migliore.